Per i cristiani il giorno di Pasqua è il giorno più importante, non a livello di dimensione personale, ma anche di dimensione sociale, di dimensione universale, perché per i cristiani vuol dire che nella Pasqua c'è la vittoria sulla morte, c'è la risurrezione di Cristo. E quindi apre la visione del mondo a una dimensione diversa, che è una dimensione di speranza, di fiducia, che nonostante tutte le fatiche, ma anche gli orrori che stiamo vivendo in questo tempo di Pasqua, e capite bene che mi sto riferendo alla guerra in Ucraina, anche quelli possono essere superati. Naturalmente non in modo magico, ma attraverso i cuori e le menti degli uomini che possono essere trasformati dall'evento di Pasqua, cioè trasformati da una visione di morte a una visione di vita. E questo è quello che io auguro a tutte le persone che stanno adesso seguendo, ma auguro anche a tutti i responsabili delle nazioni e anche alle guide, ai pastori, delle comunità religiose di tutto il mondo. Avere prospettive di risurrezione, prospettive di pace e non come stiamo vivendo in una dimensione di guerra che fa male a tutti, ma coinvolge in modo particolare quelle persone che sono lì in Ucraina. L'augurio è per tutti e che riusciamo attraverso la riflessione su questo evento della Pasqua cristiana a cambiare la nostra visione di mondo, non attraverso il potere, il dominio, la conquista, ma attraverso ad esempio una relazione positiva tra tutti i popoli, tra tutte le persone. Questo è il messaggio che io auguro a tutti, cioè un cambiamento della visione del mondo a partire dall'evento della Pasqua alla risurrezione di Cristo.